Siamo con Monica Altamura che si è dimessa dalla carica di consigliere comunale di San Giorgio Ionico, provincia di Taranto, apparteneva al Movimento 5 Stelle, una militante storica del Movimento 5 Stelle. Cosa è accaduto? Quali sono state le ragioni che hanno determinato la sua fuoriuscita? La mia fuoriuscita è stata dettata dal volere del mio meetup di appartenenza, quindi del meetup San Giorgio Ionico, per varie vicissitudini che si sono susseguite da almeno un anno a questa parte. Qual è stato il fatto scatenante? Le gocce che hanno fatto traboccare il vaso sono state fondamentalmente due, una la questione ILVA, sapete quanto io in prima linea mi si è abbattuta per la chiusura e la riconversione dello stabilimento e poi la questione vaccini, il passo indietro sui vaccini nel decreto mille proroghe. Diciamo che il Movimento 5 Stelle si è presentato in campagna elettorale con questa immagine forte della chiusura dell'ILVA e poi c'è stato tutto un gioco al ribasso continuo, non si è parlato più di chiusura, si è giocato sui termini, chiusura delle fonti inquinanti, chiusura progressiva delle fonti inquinanti e riqualificazione, fin quando poi il concetto si è anacquato completamente per poi arrivare a una soluzione che tutto sommato è come quella di calenda se non peggiorativa. Non so se sia peggiorativa o migliorativa, questo lo lascio decidere ai tecnici, a chi del mestiere. Per quanto riguarda noi la nostra posizione non è mai cambiata, chiusura e riconversione, anche quando si è parlato nel contratto di governo di chiusura delle fonti inquinanti, ok giochiamo sui termini, a noi interessa la sostanza, quindi la nostra sostanza era chiusura dello stabilimento. Poi si è cambiato rotta per via del parere dell'Avvocatura dello Stato, per via anche secondo me di ciò che voleva la Lega, perché la Lega ha sempre detto che l'Ilva non doveva essere chiusa, quindi io non so a Roma, purtroppo non avevo voce in capitolo in questo e quindi abbiamo dovuto accettare in maniera completamente passiva le decisioni prese da Di Maio e dagli altri. Diciamo che da cuscinetto, da interfaccia avrebbero dovuto svolgere questo ruolo i nostri parlamentari, i parlamentari pentastellati di Taranto, ma di loro non c'era e non c'è se non sporadici comunicati, peraltro in ciclostile, in serie o si cerca di distrarre il discorso di allontanarsi dalla questione Ilva, prendendo di mira gli schiuma parti? Io ripeto, non sono a Roma e non so loro cosa abbiano fatto a Roma e quindi non posso parlare per loro. Ecco, una decisione è quella di lasciare il movimento, va bene, ma anche di dimettersi da consigliere comunale. Si sarebbe potuto dire, ma il consenso che lei ha avuto, la fiducia personale che lei ha avuto come candidato sindaco, non eletto e quindi diventato consigliere, poteva essere canalizzato verso comunque una presenza in consiglio comunale da indipendente. Sì, però poi c'è da fare i conti con quello che si è sempre detto e con quello nel quale si crede. Io ho sempre detto che nel momento in cui non mi fossi più ritrovata a mio agio rappresentando il simbolo del Movimento 5 Stelle, che è quello con il quale sono stata eletta, mi sarei dimessa anche dalla carica di consigliere comunale. È una questione di coerenza e anche, secondo me, di rispetto nei confronti dei cittadini, perché i cittadini mi hanno votata come candidato sindaco di quello schieramento politico. Fosse stata candidata con un altro schieramento politico, allora non ci sarebbero stati problemi. Cioè, avrei continuato, ma non era questo il caso. Una scelta evidentemente diversa da quella di Massimo Battista che, pur essendosi distaccato dal Movimento 5 Stelle, è rimasto in consiglio dicendo che comunque devo dare conto ai miei 1014 elettori. È chiaro che poi ognuno si regola, fa delle scelte personali. Assolutamente sì. Io ho detto dal primo momento che secondo me Massimo avrebbe dovuto lasciare lo scranno, perché sarebbe stato molto più corretto. Poi c'è da sottolineare una cosa. Massimo Battista, è vero, è stato eletto con il simbolo del Movimento 5 Stelle, ma sappiamo tutti che non è mai stato un militante del Movimento 5 Stelle. C'è stata questa adesione dei liberi e pensati, questa confluenza che hanno poi, se vogliamo, fagocitato gli antichi militanti. Hanno rovinato ciò che era il Movimento 5 Stelle a Taranto, sì. Questo senza ombra di dubbio. Nel futuro, nel prossimo futuro politico, cosa c'è? Continuerà a fare politica? Allora, la politica si fa sempre. Per chi come me ormai da anni è in campo, in prima linea, è difficile smettere. Però in questo momento altre priorità. A novembre divento mamma. Auguri, è la cosa più importante. Infatti, è la cosa più importante. Però la cittadinanza attiva non la mollo, su questo non c'è dubbio, ma posso tranquillamente mettere gli animi a tacere, nel senso che non sto confluendo in nessun altro partito, non ho velleità di altre elezioni. Ok, sarò una cittadina attiva che continua a rompere le scatole per il suo territorio. Anche perché sarebbe più bello far vivere il piccoletto in una Taranto senza Ilva? Ah, su questo non c'è dubbio. Ma mica solo senza Ilva. Abbiamo leni, abbiamo le cariche, abbiamo purtroppo tanti guai. Anche gli schiuma parti, secondo Vianello? Eh sì, secondo lui anche gli schiuma parti. Evidentemente non si sa divertire l'onorevole Vianello. Ma oltre che non si sa divertire, il problema è che... La cosa strana di Vianello è che all'indomani dell'annuncio di Di Maio di aver rassegnato l'Ilva a Darcelor Mittal, sui social quasi sbraitava l'unica Ilva che può esistere è quella chiusa, al che io non riuscivo più a capire nulla perché ho detto vabbè ma Vianello, se Vianello fosse uscito dai Cinque Stelle gli avrei destretto la mano, dice è coerente con la sua, ma accetta la linea di Di Maio, condivide la linea di Di Maio e contemporaneamente urla Ilva chiusa. Come dire, ha cercato di recuperare quella componente ambientalista, forte componente ambientalista che ha sostenuto i Cinque Stelle e come si suol dire ha dato un colpo al cerchio ed una alla botte. E evidentemente secondo lui era la scelta comunicativa più giusta. Quindi concludendo questa nostra chiacchierata potremmo dire una delusione a Cinque Stelle. Una forte delusione a Cinque Stelle. Anche se io sono stato molto critico nei confronti dei Cinque Stelle, però devo dire una cosa, un aspetto secondo me è positivo da un punto di vista proprio sociologico, cioè che comunque al di là di come è andata a finire, delle promesse tradite, delle prese per i fondeni, però la gente ha dimostrato di credere fortemente in qualcosa, cioè non si è abbandonato, c'è stato lo spirito di rivalza verso la partitocrazia, verso il centro-destra, il centro-sinistra, verso queste realtà partitocratiche decrepite. Forse ora sarebbe il caso anche di incanalare queste forze sane verso un progetto comune che abbia come fondamento la chiusura dell'Ilva. Guarda, io devo riconoscere al Movimento Cinque Stelle proprio le qualità che hai detto tu. È riuscito a far avvicinare alla politica tanta gente che prima se ne fregava, era completamente passiva rispetto a determinati argomenti e determinati temi. Ci tengo a dire una cosa, all'interno del Movimento Cinque Stelle però ci sono tantissimi portavoce che fanno veramente una sana e buona politica, quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio. Io ne rispetto tantissimi, così come ci sono tanti arrivisti e tanti poltronisti che hanno preso il treno vincente. Le ultime candidature nei collegi uninominali alla Camera hanno rappresentato un tram da prendere in corsa e gente che non c'entrava proprio nulla col Movimento Cinque Stelle è arrivata alle stelle di Montecitorio e del Senato. Quella è stata una delle cose che ci hanno fatto... Il principio è di uno vale uno? No, uno vale uno ormai non esiste più ma da tanto tempo, perché il Movimento Cinque Stelle è strutturato, è oggettivamente strutturato, però nessuno lo dice, nessuno ha il... non so, forse si ha paura di dirlo, ma poi paura di cosa? Un movimento politico che racchiude centinaia di migliaia di persone, è normale che abbia una struttura. C'è stato soltanto, a mio parere, un errore. Si è sempre detto che era la base a dover scegliere. I vertici invece non li abbiamo scelti noi, i referenti regionali non li abbiamo scelti noi, i referenti locali non li abbiamo scelti noi. Quindi c'è di fatto una struttura verticistica che sceglie e decide per tutti. Probabilmente anche la figura di Di Maio, capo politico, nonché candidato premier, ministro, ha forse democristianizzato i Cinque Stelle? No, non credo. Credo più che altro che essendo lui l'unico oggettivamente concorrente alla carica di capo politico, poi abbia fatto delle scelte in base alla sua persona, alla sua personalità e alle persone per le quali lui nutre più fiducia. E poi intanto Di Battista è stato congelato nelle Americhe come ruota di scorta, poi chissà, magari le cose potrebbero andare male con Di Maio, e c'è questa figura, questo Deus Ex Machina, che scenderà dal cielo e magari vorrà incarnare l'antico spirito dei Cinque Stelle. Io la vedo così, questa figura che è stata tenuta in cielo, così tenuta lontana, per poi riapparire al momento dell'estremo bisogno. Una ruota di scorta preziosa. Io Alessandro Di Battista non lo definirei una ruota di scorta. Lui ha fatto una scelta dettata da ciò che ha sempre voluto fare, ha sempre voluto scrivere, ha sempre voluto viaggiare, si è preso un anno di pausa e comunque è rimasto sempre attento rispetto a ciò che accadeva in Italia e quando tornerà a dicembre si vedrà. Così, per concludere, potrebbe ipotizzarsi una scissione nei Cinque Stelle? Un nuovo Movimento Cinque Stelle dei duri e puri, anche perché certe posizioni estreme della Lega non possono essere così accettate da Fico e dall'ala di Fico? Guarda, io mi auguro che Roberto faccia qualcosa, te lo dico proprio chiaramente, perché è una persona che ho sempre stimato e che secondo me incarna realmente i valori del Movimento Cinque Stelle. Quindi sarà il tempo a vedere. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre!